sono la gente che abbia e benvenuti su uno con il club noi siamo il club ogni sera ogni tanto siamo qua a giocare a carte e mettiamo in foglio i nostri canali youtube non è vero no no questa è nuova come regola una nuova regola di uno una nuova regola di uno che ha agitato il 7 alexis no ma dai già il set fatto da stiamo bullizzando l'onico vivendi contro 10 secondi sappiatelo voglio proprio vedere l'on e tu e mi hai detto che non hai le carte tanto poi insomma 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 comunque io adesso sono un po cattivo alexis preparati a mangiarti un paio di cano alexis ok mi devo vendicare di indi di prima a proposito fra le altre cose cosa c'è e vado di colore ok scusate mi scappate guarda come sgancia carte volevi denari non è il monopoly non è che vince che più soldi più carte e comunque io cambio colore e sono scemo però che scegli perché no 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 ragazzi non voglio si può ritirare la carta troppo tardi rimetto il colore di prima era meglio che me la tenevo però è da tanto che non gioco ad uno io e da bambino l'ultima volta che ha giocato a uno era quando avevo dieci anni e ve lo giuro bene bene comunque in un modo e nell'altro ci sta arrivando dai vabbè mi frego lo stesso regola ct line sette di bevare calde a kittin ore no non rubatemi le carte non rubatemi siete proprio infami a sé a sé ok 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 allora mi rubo no ma veramente siamo uno che si pugnala le spalle dell'altro qua e questa è l'amicizia adesso dai ti tiri dal turno qualcuno di voi quando avete finito magari andiamo avanti così continuiamo indy giuro se hai un altro cosa ti spicchio male ok non mi è costretto a tirar fuori ganesho santo cielo eh no ma quanto dai datemi una carta rossa ma vi odio tutti oh l'ho trovato il cambia colore che ora guardate cosa faccio giallo grazie ora vi mostro il perché no chi ho aiutato tu guarda come vuole pugnallarmi alle spalle lei il suo piccione scrittone non ce la farai ragazzi uno no 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 devo dirlo prima di buttare la carta io di uno in questo gioco ho ancora visto poco ho visto 200 ragazzi l'uno le carte di chi scegli non è stata una grande idea le carte di chi scegli non è stata una grande idea a porco schifo a 1 a 1 dobbiamo tutti contro loro ragazzi tutti contro loro a lei vai 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 così mi piace sono tornati mi vendicherò no 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 grazie hai ragione oh oh gabby no aspetta non ho ancora allora adesso metto un più quattro ai alexis tutte quelle carte non hai un giallo venticare un divieto così non può bravissima io blocco indi io blocco indi vai ottimo ottimo e io ne butto un altro 2 animali che non so che non la fregate a me questa è stata la tufa usare no no a finiamo adesso mi becco le tue carte e la vediamo così tec capi siamo 100 di nemici adesso mamma mia che forza perché non fai schifo dammi la pio però lecci oh no io uno zero così andate tutti a fan oh grazie 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 proprio tante e io riprendo questo regalon no 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 uno contesta contesta l'ho contestato non mettete rosso non mettete rosso date uno zero io ti devo dare un abbraccio no indy erano le tue carte no grazie indy perché hai detto non mettete rosso sei dal tonico anche tu ha una patologia sono io dal tonico del gruppo non puoi rubarmi il ruolo ha una patologia oh 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 grazie no mi tocca cambiare mi dispiace ah il mio colore ragazzi il giallo è vero e io cambio in ecco ma quanto pare che mi ha fregati nooo ti odio ma non vendicati posso vendicarmi così alexis Non ce l'hai Indy Non fare giallo Non fare giallo No Sapevo io, perfetto Dimmi che pesca Troppo panico in una sola partita Stavo per vincere Mamma mia, che paura E basta Non vogliatemi male Non vogliatemi male Non ha il blu Non ha il blu, non ha il blu Cacchia, è Indy, vero? I miei Indy Ok, sì, perfetto, mi ero caccato per un secondo Ok, grazie No, Alex Ha messo il rosso Ha messo il rosso, quindi c'è la carta rossa Sì No 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 E questo è tutto, ragazzi Campione di uno Io taglierò a quelle che hanno vinto gli altri Ma come? Ma orribile, sono orribile Ma sono orribile Ma ragazzi Sì Sì